Buongiorno a tutti, ben arrivati. Oggi è il terzo webinar di questo ciclo e avrà come oggetto la consultazione per la semplificazione amministrativa. Avremo come relatrice la dottoressa Carolina Raiola e questo webinar si inserisce all'interno del progetto Delivery Unit Nazionale, un progetto attuato da Formex PA su un mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del Pong Governance e capacità istituzionale. Il webinar dura un'ora e mezza, quindi dovrebbe finire intorno alle 11.30. Come vi anticipavo potete utilizzare la chat per interagire in tempo reale con la relatrice e porre eventuali domande e richieste di chiarimento sugli argomenti. Io non rubo ulteriore tempo alla relatrice e vi invito a utilizzare la chat anche per segnalarci eventuali problemi tecnici. Se avete problemi con l'audio vi suggeriamo di utilizzare le cuffie, soprattutto se vi state collegando attraverso un dispositivo mobile, uno smartphone o un tablet. E se continuate ad avere difficoltà provate a uscire e rientrare dalla stanza utilizzando l'istruzione che vi abbiamo fornito via mail. Bene, lascio la parola alla dottoressa e buon webinar a tutti. Prego. Grazie, grazie per la parola. Buongiorno a tutti. Come già anticipato, questo è il terzo appuntamento di un ciclo di webinar che la Formez sta organizzando sul tema della semplificazione amministrativa, proprio nell'ambito del progetto Delivery Unit che, come si diceva, ha come committente del Dipartimento della Funzione Pubblica, che è un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si occupa sia di lavoro pubblico sia di semplificazione amministrativa. In particolare, oggi, l'appuntamento è sulla consultazione per la semplificazione amministrativa. Cioè, quindi, parleremo di come la consultazione, ossia il coinvolgimento dei diretti interessati o indiretti interessati della semplificazione, può aiutare a semplificare meglio. Come è stato fatto in passato e come potrebbe essere fatto ora che abbiamo questa grande opportunità del PNRR e eventualmente anche degli alert da considerare per utilizzare la consultazione meglio possibile. Ecco, io vi invito ovviamente a scrivere nel caso in cui via via nel discorso si potesse approfondire qualche argomento o queste, insomma, delle richieste particolari e delle curiosità. Naturalmente, se avete esperienze di consultazione, ancora meglio. e comincio, no? Comincio a subito col dirvi della consultazione. Cioè, cominciamo proprio sulla, nel cuore, andiamo al cuore della questione dicendo cos'è una consultazione. Così ci capiamo tutti, no? Perché la consultazione può essere di diversi tipi e quindi ne parliamo subito inquadrando per l'appunto di cosa andrò a parlare oggi. La consultazione la possiamo considerare come un insieme di tecniche attraverso cui la pubblica amministrazione instaura una relazione, no? Con, con gli interessati, quindi con cittadini, imprese, associazioni, esperti, suoi lavoratori, quindi anche dipendenti pubblici. Questa, questa relazione si realizza attraverso un flusso bidirezionale di informazioni, ossia l'amministrazione dà informazioni e ne riceve. Ed è fatta solitamente per prendere decisioni. La cosa importante è che la consultazione, quando viene fatta, comunque porta a mantenere in capo l'amministrazione la responsabilità decisionale. Ora, nello specifico, che cosa significa? Significa che io parlerò di consultazione prendendo, per esempio, tutti i casi in cui l'amministrazione attiva dei percorsi di ascolto, che è cosa diversa dai casi in cui invece sono i singoli cittadini o le singole imprese a, come dire, attivamente ad andare verso l'amministrazione. Quindi, in questo senso, tutte le attività promosse all'iniziativa dei cittadini le teniamo fuori dalla consultazione, mentre invece consideriamo tutti quei percorsi che l'amministrazione decide di attivare. È un primo punto essenziale che ci consente di distinguere, appunto, la consultazione da tutte le iniziative, pure importanti, interessanti, di cittadinanza attiva. Ora, un altro punto interessante è che la consultazione può essere di due tipi. E qui proveremo a parlare, diciamo, di entrambe le tipologie. La consultazione può essere pubblica, ossia aperta, a tutti i soggetti potenzialmente interessati, oppure può essere mirata, nel senso che a quel punto viene, diciamo, aperta soltanto a una selezione di soggetti. Che cosa significa? È una differenza particolarmente importante questa, perché distingue le iniziative di consultazione a cui tutti possono partecipare, quindi che si rivolgono alla generalità delle persone, dalle iniziative di consultazione in cui l'amministrazione decide di selezionare alcuni soggetti e di sentire soltanto quelli. Ha dei risvolti, ovviamente, su tanti fronti e ne parleremo più avanti. Un altro punto è che le osservazioni che voi ricevete quando fate una consultazione non sono vincolanti, cioè non sono come i pareri tra le amministrazioni oppure come le osservazioni sono prese in carico, si analizzano, si studiano, si ha tutti i contributi delle persone che partecipano, ma poi è l'amministrazione che decide se prenderle in considerazione oppure no. È importante perché dalla consultazione può arrivare qualsiasi cosa e quindi non è detto che tutto sia utile, non è detto che tutto sia pertinente e non è detto che tutto sia realizzabile e quindi l'amministrazione deve poter decidere di non prendere in carico alcune osservazioni, ossia di non realizzare alcune proposte che provengono dalla consultazione. Questo però non ci presuppone comunque che sia dato un feedback, cioè che sia assicurata la massima trasparenza su quanto arriva in consultazione. Questo perché l'amministrazione è vero che ha la facoltà di dire che questa osservazione non posso portarla avanti e quest'altra invece sì, ma deve dirlo alla facoltà di non essere vincolata, ma al vincolo di essere trasparente. E anche su questo poi ritorneremo. Un ultimo punto interessante è che la consultazione può essere utilizzata in diverse fasi. Può essere utilizzata sia per prendere una particolare decisione, quindi che sia già nella fase in cui si ha una bozza di provvedimento, per esempio, oppure una bozza di documento già scritto, oppure in una fase successiva o precedente, anche questo lo vedremo, e può essere anche utilizzata quando la decisione è molto lontana, ossia quando si vuole verificare lo status quo, cioè capire che cosa sta succedendo, e quando si vuole invece capire se qualcosa ha funzionato oppure no. In questo caso chiameremo queste consultazioni, almeno io le definirò così, esplorative, quindi che non sono direttamente subordinate a una decisione specifica, a un provvedimento, ma sono consultazioni che consentono di esplorare quello che c'è. Allora, noi di solito la consultazione per la semplificazione amministrativa, come vedremo, è soprattutto fatta con questa seconda confinità esplorative, o almeno questa è la storia della consultazione che è stata fatta, la storia della consultazione in Italia, ossia della consultazione della semplificazione. E questo perché? Perché la semplificazione amministrativa ha delle caratteristiche specifiche che rendono la consultazione utile, soprattutto se la consultazione ha finalità esplorative. Mi spiego meglio, ossia la semplificazione amministrativa ha sostanzialmente, potremmo dire, secondo l'ottica della consultazione, due obiettivi, ossia rendere più, facilitare i rapporti tra le amministrazioni e i cittadini. In questo senso, gli interlocutori, in questo senso, sono cittadini, imprese, associazioni loro rappresentative, essere esperti delle procedure. Mentre invece, il secondo obiettivo può essere quello di snellire i processi interni alla semplificazione, all'amministrazione. In questo caso, gli interlocutori sono soprattutto chi ha diretto contatto con le procedure, nel senso che le deve fare, le deve attuare. Per esempio, i dipendenti. Nel momento in cui si ha bisogno di intervenire su aspetti che ricadono direttamente su cittadini e imprese, per esempio, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è rendere questi rapporti, per esempio, più certi. Ossia, prendiamo il caso, per esempio, dell'edilizia, che è tanto sulla cresta dell'onda ora per le nuove semplificazioni che sono state fatte sul, per esempio, sul super bonus, sulle ristrutturazioni. Su questo vi rimando, se avete voglia di approfondire e non l'abbiate ancora ascoltato, al webinar, al primo webinar di questo ciclo di webinar che ha tenuto la dottoressa Paparo proprio sulle semplificazioni. Allora, sulle misure di semplificazione, che cosa significa più certi? Ossia, quando otterrò, per esempio, un permesso, uno dei problemi che riscontrano le persone nella pubblica amministrazione è quello di non conoscere bene i tempi. Ora, pensate alla prima fase, insomma, della CILA con il super bonus, in cui i tecnici dovevano fare le assi vera, cioè, non solo c'erano assi verazioni, ma anche lo stato legittimo, no? Allora, quanto tempo ci voleva per fare lo stato legittimo? non si aveva una data certa, Per cui, la questione principale era non so quando potrò cominciare i miei lavori di ristrutturazione, quando mi risponderà il comune, quando potrò accedere, per esempio, alle misure, quando potrò ricevere la documentazione necessaria e qui vado più in generale sull'edilizia per l'asseverazione del mio tecnico. Ci sono tecnici che, per esempio, vogliono comunque vedere documentazioni e non riescono ad accedere. Questo per farvi intendere, per esempio, che a volte i rapporti possono essere incerti e questo è un problema per i destinatari, oppure per velocizzare la relazione tra cittadini e amministrazioni. Una delle problematiche è proprio quello che per cui le procedure sono molto lunghe. Si ha una data certa, ma questa data è molto lontana e quindi questo diventa un problema. Un'altra ambizione della semplificazione è quello di rendere i rapporti più chiari, nel senso di spiegare bene come si fa per ottenere qualcosa. Quindi, a volte i cittadini lamentano e qui vado proprio nello specifico su quanto perviene nelle consultazioni, quando si fa consultazioni nella semplificazione amministrativa, i cittadini lamentano di non capire come fare, di dover andare da un'amministrazione all'altra e poi capire soltanto dopo una serie di giri quale sia la procedura più insomma corretta. Un'altra ambizione qui andiamo proprio alla riduzione di oneri che è il cuore poi del progetto di delivery unit e come vedremo è il cuore anche delle azioni di semplificazione dei programmi che sono stati fatti nel corso del tempo e di rendere i rapporti meno costosi. Ossia che a volte e qui mi rimando in caso vogliate approfondire al webinar secondo webinar che è stato tenuto nella in questo ciclo del dottor Martelli che appunto parla di riduzione degli oneri e quindi la in sostanza ogni procedura ha un costo per chi la deve per chi deve ottemperare la semplificazione amministrativa ha anche l'ambizione di ridurre questi costi cioè di valutare di verificare e misurare quanto costa una procedura quanto costa ogni pezzettino di procedura e ogni step consegnare un documento fare le copie conservarlo e in questo caso agire e ridurre gli step che non sono fondamentali o sono ridondanti e infine dunque rendere le procedure meno nerose cioè meno costose e consentire così di liberare risorse che altrimenti sarebbero improduttive questa premessa anche per per inquadrare qual è il discorso della consultazione nella semplificazione amministrativa ossia la consultazione in questo senso è utile può essere utile per rilevare ognuna di queste problematiche e andare a indagare perché avvengono sentendo la viva voce di chi per così dire le subisce e questo è il punto della consultazione quando si deve fare consultazione e ridurre gli oneri quando si deve semplificare spesso c'è il rischio di perdere di vista qual è l'esperienza di chi deve avere a che fare con la con la burocrazia la consultazione consente di ridurre questi gappi informativi per cui io nell'amministrazione studio come dovrebbe essere una procedura ma poi per capire come effettivamente risulta sul territorio devo poter ascoltare chi ha esperienza diretta e questo è il valore aggiunto della consultazione quando vi trovate in una situazione in cui non vi è chiaro come effettivamente sta agendo la burocrazia sul territorio allora può essere un'occasione per svolgere una consultazione allora qui dopo questa diciamo premessa un po' più teorica andiamo su molti esempi che spero vi possano essere utili anche per continuare a inquadrare il valore aggiunto che può avere la consultazione e anche per prendere spunti da quello che è già stato fatto allora qui ho messo un elenco di consultazioni pubbliche quindi rivolte alla generalità dei cittadini svolte dal dipartimento della funzione pubblica sul tema della semplificazione amministrativa io non so se voi avete avuto l'opportunità di partecipare a una di queste iniziative però vedete che nel corso degli anni sono state tante dal 2007 al 2020 ho fatto una carrellata queste iniziative che vedete elencate le possiamo diciamo dividere in due parti le iniziative che sono state fatte quando in una come dire logica di programmazione o pianificazione ossia quelle iniziative di consultazione che sono state svolte o per capire come programmare il futuro della semplificazione oppure per capire se sta mandando tutto bene oppure no rispetto ai programmi già definiti si si tratta per esempio delle prime iniziative la consultazione sul piano annuale di semplificazione e le tue idee di semplificare che furono fatte per esempio entrambe nell'ambito dei piani annuali di semplificazione la prima la consultazione sul post proprio per valutare una volta inquadrato diciamo il piano e definite le azioni di semplificazione da fare nell'anno e intendo dire per esempio le singole misure da adottare allora la prima consultazione fu fatta proprio per valutare e raccogliere osservazioni su sull'attuazione del piano la seconda le tue idee per semplificare fu fatta una volta chiuso il primo piano di il piano annuale di semplificazione nel 2007 per redigere il nuovo piano di semplificazione questo ve lo dico perché possono sembrare iniziative molto risalenti però sono fatte sempre nell'ambito di una programmazione che è quello e che è un po' il contesto in cui ci troviamo oggi con il pnrr ossia bisogna programmare le attività come si fa a programmarle la consultazione può aiutare a individuare alcune priorità per esempio questo fu fatto all'epoca e viene fatto ed è stato fatto anche successivamente per l'agenda per la semplificazione il dipartimento della funzione pubblica ha adottato di concerto con viviente locali con ANCI UPI e le regioni l'agenda per la semplificazione la prima agenda 2015 2017 allora nel momento in cui il la si doveva costruire l'agenda e quindi decidere che cosa inserire come azione di semplificazione è stata fatta una consultazione pubblica che è 100 procedure da semplificare vedremo poi come è stata fatta per capire quali fossero i problemi principali rilevati da cittadini e imprese e cominciare a ragionare a partire da quelli per costruire le attività di semplificazione da lì a tre anni un'altra occasione è stata quella di semplifichiamo che è stata fatta per la costruzione dell'agenda 2020 2022 e tutte queste iniziative come dicevo prima hanno come riferimento un piano o una programmazione altre iniziative che pure vedete elencate come burocrazia nello ciontaio come consultazioni su covid e come semplifica PA non avevano come obiettivo quello di costruire un piano o di valutare l'effettiva attuazione di questo piano avevano come obiettivo quello di monitorare costantemente che cosa non andava nel rapporto tra cittadini e burocrazia cittadini intesi come sia persone che vivono sia nel loro quotidiano sia imprese quindi di mantenere come dire l'orecchio sul terreno per capire quali problemi emergevano nel corso del tempo e infatti si tratta di iniziative per esempio burocrazia vediamoci un taglio che sono durate molto tempo si dice consultazioni permanenti ossia iniziative che sono sempre lì raccolgono osservazioni e che sono la fonte informativa per poter agire anche nell'ambito dei piani ma diciamo con in caso in cui ci siano dei piani attivi ma sempre con l'obiettivo di capire se qualcosa è rimasto fuori dai piani in questo senso c'è la semplifica burocrazia nemmo sul taglio che è stata una ora lo vedremo una consultazione rivolta a tutti i cittadini come dicevo cittadini e imprese e infatti la cosa interessante è che su un totale di segnalazioni pervenute di più di 2000 segnalazioni pervenute soltanto 40 segnalazioni sono state inviate dalle associazioni rappresentative ovviamente le associazioni sono in numero inferiore a quelle di cittadini però c'è da dire che comunque in proporzione il numero di segnalazioni di singoli individui è stato molto più alto e in questo senso la consultazione è stata ha funzionato perché l'obiettivo principale del dipartimento della funzione pubblica era il 2009 l'anno in cui è partita questa consultazione era proprio quello di coinvolgere singole persone singoli cittadini singole imprese e affiancare così con questa consultazione pubblica le attività di ascolto che invece erano rivolte alle associazioni in altre sedi quindi è stata un'esperienza che ha avuto l'obiettivo per l'appunto di unire due tipi di consultazioni ossia voi continuate a sentirmi vero? ossia una consultazione pubblica e invece ok grazie perché all'improvviso sembravate tutti offline una consultazione pubblica quindi rivolta a tutti che così integrava le osservazioni che provenivano invece da interlocutori privilegiati come le associazioni gli esperti che venivano ascoltati con altre forme di consultazione vi faccio vedere per esempio 100 procedure 100 procedure da semplificare è stata una consultazione che è stata avviata subito dopo la chiusura di burocrazia da nociuntaglio in questo caso era il 2013 burocrazia da nociuntaglio una volta terminato il programma di misurazione su cui che 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 supportava è stata chiusa e l'obiettivo è stato quello di costruire l'agenda di semplificazione io ho avuto la fortuna di partecipare entrambe le iniziative quindi la differenza tra l'una e l'altra era proprio relativa al tempo burocrazia burocrazia andiamo su un taglio vi ripeto questo lo trovo importante come fatto era una consultazione molto lunga che riceveva per dirvi una decina di segnalazioni al giorno ovviamente con picchi diversi a seconda delle iniziative di comunicazione che venivano svolte però una consultazione molto lunga di tre anni più di tre anni che quindi aveva anche un altro impatto un certo impatto sull'analisi dei dati ogni giorno arrivavano poche segnalazioni costantemente e questo ha consentito di raccogliere in tutto più di duemila osservazioni che ovviamente cambiavano nel tempo immaginate per esempio di svolgere una consultazione quando è in auge un certo argomento per dirvi il super bonus noi l'abbiamo fatto l'anno scorso ormai nel 2020 quindi più di un anno fa a un certo punto tutte le segnalazioni convergono verso l'argomento del momento quindi se voi aprite una consultazione per un lasso di tempo definito e per esempio c'è una nuova misura al telegiornale parlano di un determinato argomento quindi c'è un mainstream su un certo tema vi aspetterete che anche nella vostra consultazione vi arrivino molte segnalazioni su quel tema questo ve lo anticipo perché è un punto da considerare nel momento in cui si 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 vogliono come dire riportare all'universo i dati della consultazione la consultazione non è rappresentativa gli esiti della consultazione non sono rappresentativi perché possono dipendere perché il campione non è selezionato di persone che partecipano immaginate queste iniziative sono tutte online sono su un sito le persone arrivano in diversi modi non sono dei campioni rappresentativi possono essere per esempio tutti architetti perché magari l'ordine degli architetti ha visto la consultazione l'ha trovata interessante e quindi ha come dire veicolato ha deciso di fare una news o di mandare newsletter a tutti gli iscritti a quel punto arriveranno tantissimi architetti non possiamo considerare quindi mettete una sproporzione arrivano tanti architetti che parlano dei problemi per esempio legittimamente legati all'asseverazione a quel punto che cosa succede? succede che dovete dovreste nel momento in cui si fa la consultazione cercare di coinvolgere anche altri altri tipi di persone perché ve lo anticipo perché in questo senso è molto importante quando si fa una consultazione pubblica capire chi partecipa e quindi fare in modo da raccogliere dati sulla professione delle persone che rispondono sul mettere un'anagrafica e capire se effettivamente le segnalazioni provengono da una categoria specifica oppure da più categorie e l'altro punto che vi dicevo prima è perché ovviamente i risultati e gli esiti a prescindere non sono rappresentativi e quindi non si possono contare sulla consultazione come su uno strumento di analisi che può essere riportata all'universo per 100 procedure la differenza con burocrazia di un danno centrale è che 100 procedure è durata tre mesi poco più di tre mesi aveva l'obiettivo di raccogliere indicazioni sulle procedure più complicate per cittadini e imprese in modo da costruire in base a quanto perveniva la nuova agenda per la semplificazione che sarebbe stato il piano il programma diciamo di 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 semplificazione da lì a tre anni quindi ha una questione molto importante nell'agenda venivano riportati tutte le azioni di semplificazione con obiettivi scadenze responsabilità delle amministrazioni e bisognava capire cosa metterci dentro cioè dove puntare per la semplificazione perché ovviamente gli sforzi dovevano essere ottimizzati e dunque le azioni dovevano essere anche in numero limitato ovviamente la consultazione pubblica fu fatta proprio per questo in questo senso in tre mesi sono arrivate alla consultazione duemila osservazioni il che quindi significava dover processare un numero diverso rispetto a burocrazia di amocentaio di osservazioni ogni giorno quindi duemila in tre mesi mentre invece in burocrazia di amocentaio aveva duemila in tre anni qui vi ho messo diciamo a confronto diverse diciamo le principali consultazioni che sono state fatte confrontandole appunto per tipo di strumento utilizzato obiettivo destinatari oggetto e periodo di consultazione abbiamo detto burocrazia di amocentaio è stata fatta per tre anni semplifica PA che non vi ho fatto vedere è stata una consultazione di circa tre mesi che ha avuto come interlocutori unici i dipendenti pubblici cioè era proprio rivolta alle persone che lavorano nelle pubbliche amministrazioni fu fatta più o meno nello stesso periodo di burocrazia ad amocentaio perché era interessante a fronte di alcune segnalazioni che provenivano per esempio sulla vi faccio alcuni esempi sulla gestione delle liste elettorali sulla gestione per esempio anagrafica sulla gestione dei certificati anagrafici problemi interni di comunicazione tra uffici in questo senso noi cioè il dipartimento della funzione pubblica mi interessa proprio ad approfondire alcune questioni relative agli uffici cioè come semplificare il lavoro degli uffici e snellire i processi interni a quel punto la consultazione raccolse circa 230 segnalazioni in questo caso vi potrete immaginare siete tutti lavoratori delle pubbliche amministrazioni che il livello di spiegazione delle problematiche la qualità diciamo delle osservazioni fu molto elevata molto tecnica e molto pertinente questo ve lo dico perché uno dei problemi che può esserci quando si fa una consultazione pubblica è che i rispondenti non sempre conoscono bene le situazioni in cui si trovano per dirvi vi può arrivare una segnalazione da un cittadino che vi dice io voglio ricominciare i lavori di casa ci metto tanto tempo perché il comune non mi dà i permessi che cosa può essere no? non ha linguaggio tecnico o specializzato per spiegare che cosa significa ristrutturare casa un appartamento una villetta un condominio si trova in un condominio si trova da sole insomma queste questioni sono importanti e quando si ha dei dipendenti pubblici oppure comunque delle persone esperte questo livello di diciamo approssimazione che è che è come dire molto legittimo nei cittadini nelle imprese nei dipendenti non si ha però ovviamente il punto di vista dei dipendenti è quello del loro lavoro interno agli uffici per questo il dipartimento decise di affiancare alla consultazione di cittadini anche una consultazione tematica una consultazione specifica sulle amministrazioni pubbliche per breve tempo rivolta agli esperti degli uffici in questo vedete poi altre due iniziative 100 procedure di semplificare che abbiamo visto prima e semplifichiamo semplifichiamo fatta per la nuova agenda è stata fatta tra il 2019 e il 2020 per la costruzione della nuova agenda per la semplificazione quindi 100 procedure per l'agenda 2015 2017 e semplifichiamo per l'agenda 2020 2022 ora le due iniziative sono state svolte in grosso modo più o meno con la stesso metodo come vedete tutte le iniziative sono state fatte attraverso l'uso di questionari e poi ve le farò vedere e il metodo è sempre stato quello di raccogliere informazioni sulle problematiche rilevate nel rapporto con l'amministrazione e proposte di semplificazione hanno avuto però le due iniziative 100 procedure a semplificare semplifichiamo due diversi esiti 100 procedure e ve l'ho detto più di 2000 osservazioni in quattro mesi mentre invece semplifichiamo fatta praticamente nel pieno della prima emergenza covid che è partita alla fine del 2019 ma poi il cuore della consultazione si è svolto quando cominciato il lockdown e tutta l'attenzione del paese era altrove ha ricevuto circa poco o meno di 200 osservazioni è una è un risultato eravamo nell'ordine delle centinaia forse anche di meno è un risultato che ovviamente sconta il contesto in cui viene svolta la consultazione che è fondamentale vi faccio vedere un'altra iniziativa particolare diversa dalle altre perché come vi ho detto prima quelle precedenti che vi ho fatto vedere precedentemente utilizzavano un questionario mentre invece questa ha utilizzato un forum il forum era la rete Italia Semplice è una rete di esperti di lavoratori delle pubbliche amministrazioni di anche rappresentanti delle associazioni che sono iscritti appunto a questa comunità di pratiche che esiste nel 2020 utilizzammo per raccogliere informazioni soprattutto sulle problematiche burocratiche che si stavano riscontrando nell'ambito dell'emergenza covid quindi insieme a la semplifichiamo che era una consultazione generica sulle problematiche generiche di semplificazione che dovevano poi andare a essere diciamo l'oggetto di semplificazione negli anni futuri attraverso l'agenda l'emergenza ci ha imposto di di agire in modo repentino sulle problematiche dovute proprio alla alle questioni alle chiusure alla all'ottemperanza alle nuove prescrizioni e tutto ovviamente con lo strumento di semplifichiamo che era molto generico non potevamo andare nello specifico e quindi a quella è stata aggiunta questa ulteriore consultazione svolta su un'altra piattaforma rivolta essenzialmente a persone diciamo un po' più qualificate nel senso di dentro le procedure quindi dipendenti e esperti per approfondire alcuni aspetti legati all'emergenza ovviamente come vedete i commenti in questo caso sono stati dell'ordine delle decine però l'idea che qui vi posso diciamo portare è che anche in caso di emergenza la consultazione può essere utile per raccogliere informazioni specifiche anche su alcuni aspetti molto puntuali ed è un po' il senso della consultazione mirata nel senso che spesso le amministrazioni quando devono decidere quando devono determinare quali sono i problemi burocratici si rivolgono a esperti interlocutori privilegiati associazioni rappresentative soggetti predeterminati e svolgono consultazioni per raccogliere da loro informazioni specifiche e soprattutto proposte di semplificazione perché un dipendente pubblico che lavora tutti i giorni allo sportello unico sa quali sono i problemi legati al proprio sportello messi insieme ai problemi degli sportelli degli altri dipendenti si riesce ad ottenere informazioni su dove ci sono i problemi su come risolverli e lì ci sono anche buone possibilità che vengano proposte soluzioni ingegnose ed efficaci per poter risolvere le problematiche quindi le consultazioni pubbliche in genere si si affiancano a questo tipo di consultazioni un po' più merate la consultazione che vi ho fatto vedere prima su Rete Italia Semplice in realtà è stata una consultazione che univa due cose innanzitutto una consultazione pubblica perché Rete Italia Semplice è una rete dove potevano intervenire tutti indistintamente cioè basta iscriversi e partecipare a questa consultazione ma ovviamente l'iscrizione e il fatto di appartenere a comunità di pratica ha selezionato di fatto i partecipanti senza che però ci fosse predeterminazione da parte dell'amministrazione mentre invece quindi di fatto è stata una consultazione pubblica in questo nel caso che la consultazione è mirata invece è come se l'amministrazione dovesse invitare alcuni soggetti a partecipare e quindi avere una lista per così dire di nomi e chiedere loro di dare le proprie osservazioni in merito queste tipo di consultazioni sono molto frequenti nell'amministrazione nella semplificazione amministrativa per esempio e nei programmi di misurazione degli oneri amministrativi sono state molto utilizzate per esempio per approfondire alcune questioni relativi ai costi derivanti da alcuni obbligo informativi quindi attraverso alcune tecniche che si possono utilizzare per le consultazioni mirate sono i focus group i panel le indagini campionarie le interviste per approfondire alcuni aspetti ovviamente le indagini campionare sono rappresentative o almeno vengono fatte in modo da poter essere riportate all'universo e a divenire a una misurazione che sia rappresentativa di quello che succede in Italia e per questo questo tipo di consultazioni che vanno ad approfondire alcuni aspetti poi anche in Europa furono affiancate dai metodi di consultazione pubblica che andavano invece a dare la possibilità a tutti di esprimere le problematiche quindi di raccogliere punti di vista anche diversi da quelli che possono essere quelli degli esperti di stakeholder perché per esempio le associazioni rappresentative portano naturalmente un certo tipo di interessi all'amministrazione che fa consultazione in questo senso la consultazione pubblica ha un contrappeso cerca di dare un contrappeso alla rappresentazione di interesse attraverso una consultazione mirata in questo senso quando si fa una consultazione mirata in caso in cui dovesse ritrovarvi a farlo la raccomandazione è quella di assicurare che le persone invitate siano rappresentative di diversi interessi ossia se si fa una consultazione mirata su un determinato aspetto per esempio mi viene in mente ancora l'edilizia non si inviteranno soltanto rappresentanti delle categorie degli architetti degli ingegneri ma anche rappresentanti dei consumatori e rappresentanti appunto degli uffici pubblici che avranno anche i loro problemi quindi si ascolta la gamma più variegata di soggetti per poter mettere insieme tutte le informazioni e arrivare a delle soluzioni che siano di qualità ossia soddisfino le esigenze di maggior parte delle categorie e anche degli interessi più deboli che di solito non riescono a partecipare qui vi ho messo una carrellata di consultazioni esperienze di consultazioni che furono fatte proprio nell'ambito dei programmi di misurazione tra il 2007 e il 2012 diciamo che all'inizio e qui mi rimando al webinar del dottor Martelli in caso in cui abbiate interesse ad approfondire la questione dei programmi di misurazione diciamo che il senso è che la commissione europea partì con il proprio programma di misurazione per studiare dove si anidavano le problematiche burocratiche quanto costavano e ridurre appunto i costi della burocrazia soprattutto sulle imprese e per farlo prese ispirazione nella metodologia dai paesi bassi insomma con lo standard cost model e per la partecipazione dei soggetti interessati prese ispirazione dal belgio che aveva allora già da tempo una consultazione che si chiamava Kafka Point dal i belgi hanno preso in adozione diciamo Kafka e ovviamente quello che con la sua opera del castello insomma che descrive le problematiche relative ad avere le problematiche che si hanno quando si ha a che fare con gli uffici pubblici diciamo così e che cosa fece il belgio creò un sito un sito web per raccogliere la descrizione delle problematiche che le persone avevano con la burocrazia era una immaginate proprio un questionario molto semplice un box per inserire la descrizione della problematica burocratica a cui si era venuto incontro e altre tre domande per diciamo raccogliere il nome del partecipante cioè quindi altri tre spazi per inserire il proprio nome il proprio nome e l'organizzazione di appartenenza ovviamente come iniziativa l'iniziativa era partita a inizio del 2000 e aveva diciamo come interlocutori primari diciamo così i dipendenti si chiedevano le organizzazioni i dipendenti o comunque le persone che lavoravano nelle organizzazioni però è stata un'iniziativa che se andate ora a vedere il sito belga esiste ancora ed è stata di ispirazione per la commissione per avviare una grande consultazione pubblica sul tema degli oneri amministrativi un pochino più diciamo articolata perché la commissione europea aprì una pagina del sito con un questionario anche qui in cui si chiedeva di descrivere la problematica un altro spazio dedicato alla descrizione della soluzione possibile per questa problematica e una e diciamo altri campi per in cui venivano richieste addirittura la normativa di riferimento l'ufficio che di solito si occupava di questi cioè che poteva essere riferimento il servizio diciamo della commissione europea che poteva essere riferimento per questo tipo di problematica burocratica e poi il chiedeva questo questionario di addirittura di stimare il diciamo il risparmio che si sarebbe avuto se la soluzione proposta dal partecipante fosse stata poi adottata dalla commissione europea quindi che cosa fece la commissione europea fece una grande raccolta di problemi burocratici chiedendo addirittura di dare dettagli su quanto costavano queste problematiche e soluzioni per la loro risoluzione cioè proposte per la loro risoluzione a partire poi dalla commissione europea dal belgio che l'aveva fatta anche altri paesi che partecipavano ai programmi di riduzione di ioni di tracco d'italia attivarono delle consultazioni pubbliche in diverso modo ma sempre con lo strumento del questionario in cui si raccoglievano più o meno informazioni di dettaglio per esempio così Regno Unito molto simile a quella della commissione europea molto interessanti vi devo dire quella dei Paesi Bassi che fece quattro consultazioni contemporanee quindi immaginate quattro tipi quattro questionari di consultazioni ognuno rivolto a un destinatario specifico una categoria di destinatari specifici quindi cittadini imprese dipendenti pubblici ed enti locali che tutte e quattro le consultazioni contribuivano alla raccolta di problematiche di indicazioni sulle problematiche burocratiche e sulla proposte di risoluzione quindi è interessante perché la scelta fu quella di dividere fare tanti questionari e concentrare ogni questionario su una particolare categoria di soggetto e poi in Francia molto interessante perché affiancava una consultazione permanente di questo tipo ossia una consultazione che chiedeva appunto di osservazioni sul c'erano in Francia tre scatole una scatola per i suggerimenti una scatola per le problematiche burocratiche quindi un questionario per le problematiche burocratiche e una questionario invece per le semplificazioni a questa consultazione permanente venivano poi sommate integrate cioè si integrava questa consultazione permanente con consultazioni a ondate specifiche di tempo limitato su tematiche particolari per cui mentre era in corso la consultazione generale si attivavano mini consultazioni di uno due o tre mesi su temi specifici per esempio una delle prime consultazioni fu sul tema delle problematiche burocratiche derivanti cioè che si venivano a creare quando quando moriva una 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 persona cara e voi che lavorate nelle amministrazioni sapete che ci possono essere tante problematiche connesse a questo tipo di evento probabilmente la questo la scelta degli argomenti in questo senso quando si hanno queste iniziative che mixano consultazioni permanenti e consultazioni specifiche la scelta degli argomenti delle consultazioni specifiche può derivare anche dalla lettura delle osservazioni delle delle consultazioni generiche per approfondire temi che arrivano nelle consultazioni generiche che magari sono state portate da più persone che quindi hanno come dire rilevanza per i partecipanti alla consultazione generica e soprattutto possono trovare un effettivo riscontro da parte dell'amministrazione ossia l'amministrazione può lavorarci può studiare e può effettivamente portare prevedere una semplificazione allora queste consultazioni sono state fatte praticamente sono cominciate 15 anni fa ormai sembra tanto però il contesto è sempre quello in cui ci ritroviamo c'è un programma della commissione europea a cui gli stati variamente partecipano anche con diciamo raccomandazioni facendo dovendo tener conto di raccomandazioni a commissione in quell'epoca la commissione dava tantissime raccomandazioni dava forti raccomandazioni all'uso della consultazione pubblica e quindi partecipare a un programma di misurazione utilizzando anche l'ossimento della consultazione pubblica era ovviamente come un'adesione anche ai principi della commissione e quindi io lo trovo diciamo abbastanza esemplificativo qui vi ho messo altre esperienze di cui non approfondisco però per dirvi che poi questa iniziativa hanno avuto una loro continuità e come dicevo il Kafka Point da cui si è originato e tutto ancora oggi esiste ed è stato un po' più focalizzato sul tema del OneSolly ossia nel Kafka Point in questo periodo si richiedono esperienze di problematiche burocratiche legate a quelle situazioni in cui le amministrazioni chiedono più volte gli stessi dati che evidentemente per in Belgio è ritenuto in questo momento come un un problema prioritario su cui si può intervenire e qui vi ho mostrato anche vi mostro anche l'iniziativa Farsimple della francese i francesi sono sempre abbastanza innovativi sulla sulla consultazione pubblica quindi se volete esperienze vi invito a guardare loro innanzitutto perché con questa iniziativa che è diciamo la prosecuzione dell'iniziativa che abbiamo visto prima delle scatole di semplificazione che cosa ha cominciato a fare la Francia che è molto interessante in tema di semplificazione amministrativa ha continuato a fare consultazioni per esempio un po' più permanenti anche con commenti aperti quindi le osservazioni di partecipanti vengono pubblicate e qui vedremo i rischi che ci può essere quando si fa una cosa del genere comunque commenti aperti stanze chiuse o aperte tematiche in cui discutono quindi tra di loro le persone su determinati temi discutono o pubblicamente o in privato in privato inteso come diciamo discutono in gruppi che sono accessibili soltanto su invito o previa iscrizione quindi non a tutti a tutto il web insomma e consultazioni a ondate ossia consultazioni su temi uno dietro l'altro specifici che si aprono e si chiudono quindi consultazioni per esempio di uno due o tre mesi su un tema specifico che poi si chiude e ricomincia un'altra consultazione per esempio una delle ultime iniziative francese è stata quella della consultazione rivolte ai dipendenti pubblici anche questa era ondata ma non su temi ma su tipi di amministrazioni coinvolti per cui hanno ascoltato per esempio prima le amministrazioni del settore economico poi le amministrazioni le altre amministrazioni centrali e per terzi gli enti locali quindi se avete intenzione di fare consultazioni sul tema della della semplificazione tenete conto anche di mixare tra di loro varie tecniche di consultazione perché dalla dall'integrazione di più tecniche si riesce anche a ottenere diversi risultati risultati diversi e quindi più più ricchi queste esperienze di consultazione per la semplificazione sono state fatte anche dalle regioni per esempio una consultazione molto simile a quella del dipartimento della funzione pubblica quindi di cento procedure in particolare è stata fatta dalla regione Lazio che ha raccolto osservazioni quindi descrizioni di problematiche proposte di risoluzioni di queste problematiche per singoli temi quindi immaginate un sito a cui ci si scriveva si poteva selezionare il singolo tema che in qualche modo ricalcava diciamo la struttura degli uffici della regione selezionando uno dei temi si poteva poi provvedere a scrivere la propria problematica burocratica la propria indicazione di soluzione e quella osservazione evidentemente veniva poi istruita per andare oltre e se invece vi trovate nella condizione quindi questa è un tipo di consultazione che viene fatta per come dicevo prima ascoltare un po' le problematiche che vengono che ci sono sul territorio così come antenna sul territorio se invece siete nella situazione in cui per qualche ragione dovete creare un piano di semplificazione dovete fare un programma di semplificazione vi invito anche a guardare queste due esperienze di Campania e Toscana che hanno utilizzato la consultazione la prima per definire il piano annuale di semplificazione e la seconda per fare per sottoporre a consultazione pubblica alcune proposte di semplificazione che erano state innanzitutto istruite con l'aiuto di consultazioni mirate rivolte a associazioni rappresentative e altri soggetti privilegiati quindi le misure concordate diciamo le misure decise e istruite insieme a questi interlocutori poi sono state sottoposte alla consultazione pubblica quindi alla valutazione in termini di importanza anche alla cittadinanza allora qui comincio ad andare veloce perché sono in ritardo mi dispiace sette domande quindi io vi ho fatto vedere molti esempi mi dispiace ma sono lì che poi vengono le idee per svolgere le consultazioni guardando gli altri che cosa fanno e adattando al proprio contesto quindi studiando bene il contesto in cui ci si trova i propri bisogni e cercando anche di vedere come sono andate le consultazioni degli altri allora sette domande a cui la consultazione può rispondere ossia andiamo nel vivo sul ruolo della consultazione qui posso andare un po' più veloce perché degli esempi ci potrebbero aiutare allora la prima risposta a cui puoi dare una consultazione è la semplificazione è da dove comincio a semplificare abbiamo visto sono state fatte molte consultazioni per dire ok abbiamo un problema abbiamo uno stock normativo enorme tantissimi problemi burocratici arrivano segnalazioni un po' ovunque così spontaneamente di cittadini che mi iscrivono scrivono lo sportello si lamentano lo sportello si lamentano nell'ufficio bene comincio a riordinare tutto mi arrivano molte lamentele cominciamo a dare un ordine a queste lamentele apriamo e attiviamo un canale di ascolto che in qualche modo le faccia convergere che dia una forma a queste a questo disagio che evidentemente si sente nel rapporto con la pubblica amministrazione e a partire da quello individuo quali sono le problematiche prioritarie cioè cosa è sentito dai le persone come più stringente come più oneroso come più faticoso che non è detto che sia esattamente quello che è realmente più faticoso ma quello che viene sentito come più faticoso e qui vi do uno spunto per esempio sulle problematiche che incontrano le persone con disabilità magari le persone con disabilità cioè gli step delle procedure le persone con disabilità costano allo stesso modo le step delle procedure dell'edilizio comunque hanno dei costi molto simili però quanto può essere faticoso più faticoso per una persona con disabilità avere questi costi spostarsi tra gli uffici quindi come dire si ha bisogno anche di sapere in modo qualitativo qual è la fatica che c'è dietro alcuni adempimenti burocratici quindi se volete se vi trovate in una condizione in cui ricevete tanti di questi stimoli riordinate aprite un canale magari nella forma del questionario oppure di altre forme che vedremo dopo e cominciate a raccoglierle da lì avrete le vostre priorità di semplificazione allora il questionario di cui vi parlavo è questo un semplice questo è del 2009 quindi un semplice box in cui raccontare la storia le proposte qui vedete una risposta una domanda risposta multipla nel corso del tempo sono state affinate insomma le tecniche quindi domanda e risposta multipla anche lì vi possono dare un inquadramento sulle sulle varie per esempio ambiti o argomenti che vi possono aiutare a leggere meglio le osservazioni perché capirete che quando vi trovate ad avere tanti tanti contributi testuali poi li dovete leggere quindi se vi arrivano in qualche modo già ordinati quindi già classificati per tema per tipologia di problematica allora vi risulterà più semplice analizzarli qui vi mostro una consultazione proprio su questo su questo punto la commissione europea per decidere dove cominciare a semplificare quindi per capire quali fossero le dieci procedure più onerose per questo senso sempre per le imprese ha fatto una consultazione in cui nel questionario ha aggiunto anche a risposta chiusa un elenco delle procedure più complicate cioè delle procedure che diciamo con la consultazione degli stakeholder precedente aveva ritenuto essere le procedure su cui ci potevano essere più problematiche ora questo tipo di espediente non è mai stato fatto in Italia perché immaginate ti fanno un elenco di tutte le procedure anche con tutta buona volontà di consultazioni preliminari di diciamo scremature preliminari sarebbe difficilissimo le procedure sono tantissime però in questo senso loro fecero l'elenco delle procedure e richiedevano di spuntare in questo modo e però un elenco delle procedure problematiche però io qui vi lascio diciamo una domanda se voi avete un elenco di procedure problematiche che cosa potete capire da questo elenco che per esempio una procedura problematica è quella del super bonus un'altra procedura è quella del rilascio della carta di identità eccetera eccetera ma cosa capite di uno specifico per questo diciamo dovete approfondire a quel punto ritorna il problema di approfondire con il vostro punto di vista non quello dei cittadini per questo le risposte aperte nelle descrizioni del problema vi possono aiutare perché consentono di determinare qual è il vero problema legato a quella procedura immagino il rilascio della carta di identità elettronica per esempio e lì insomma potreste per esempio capire che è un problema legato a quello specifico sportello che per qualche problema di organizzazione diciamo è in ritardo e a quel punto c'è poco da fare in termini di semplificazione amministrative allora un altro aspetto un'altra domanda a cui può rispondere vedo che ci sono delle domande finisco prima questo punto e poi vado a rispondere quali sono la consultazione vi può dire dunque quali sono le problematiche di un determinato ambito o di una determinata procedura nel momento in cui voi chiedete più nello specifico di approfondire quale sono i problemi relativi a un certo argomento per esempio se non vi trovate se invece di trovarvi nella condizione in cui voi dovete programmare il lavoro dei prossimi anni quindi individuare quali sono le priorità di semplificazione vi trovate invece in una condizione in cui sapete già che in un determinato ambito per esempio su un determinato argomento oppure su una determinata procedura per esempio in questo caso rilascio della carta di identità avete dei problemi come amministrazione allora voi potete decidere di aprire una consultazione specifica su quel tema quindi fare una consultazione sulle problematiche relative al rilascio della carta di identità oppure problematiche relative all'ottenimento della problematiche relative alla CILA a quel punto voi focalizzate l'attenzione su questo tema specifico e avete osservazione sia ospita il più utile possibile a seconda di come confezionate le domande e la promozione che poi fate alla consultazione quindi l'attività di comunicazione per pubblicizzare l'iniziativa su quell'argomento ovviamente voi dovete avere già idea di poter lavorare su quell'argomento che quell'argomento è problematico perché poi se non è problematico non vi arrivano osservazioni e soprattutto di dare poi un seguito cioè di fare effettivamente semplificazione su quel tema magari anche qualche portare avanti qualche proposta far diventare portare avanti qualche proposta che viene proposta di qualche cittadino ecco e questo ne abbiamo già parlato degli alert un'altra risposta a cui puoi dare consultazioni quindi abbiamo visto indeterminare le priorità indagare le problematiche relative a un certo ambito o una certa procedura una volta che voi per esempio avete una avete idea che con la procedura problematica avete congegnato più modi per risolvere questo problema burocratico voi potreste utilizzare la consultazione per capire secondo i vostri interlocutori quali potrebbe essere la soluzione migliore qui attenti bisogna fare attenzione a non scadere nei giudizi di valore ovviamente bisognerebbe ossia chiedere mi piace o non mi piace per quale ragione quali sono i problemi che potrebbero derivare dall'attuazione di una proposta oppure quali sono i problemi che potrebbero derivare dall'attuazione di un'altra proposta alternativa quindi voi avete diverse soluzioni per risolvere una problematica burocratica volete testare attraverso l'interlocuzione con i vostri con le persone che poi dovranno fare quel determinata attività cioè dovranno attemperare quella procedura quali potrebbero essere i problemi attuativi di ognuna delle soluzioni in questo caso e aggiustate prima di prendere una decisione aggiustate il tiro nel senso di essere più efficienti possibili qui si va già sul provvedimento se siete amministrazioni centrali ovviamente dovete rispettare gli obblighi e le previsioni del regolamento su AIR e BIR quindi se dovete fare decreti per esempio che rientrano nell'ambito dell'AIR per esempio l'applicazione dell'AIR allora dovete avere a mente il 169 del 2017 e la linea guida dell'AIR nell'ultima slide avrete troverete tutti i riferimenti a normativi lì c'è un obbligo di consultazione potete farlo per opzioni oppure quindi se avete più opzioni alternative tre diverse soluzioni e le studiate tutte e tre con l'aiuto dei destinatari poi se invece non avete tre soluzioni avete solo una quindi avete già praticamente la misura di semplificazione promontà potreste sottoporla anche questa consultazione pubblica per poter capire attraverso gli istantali quali effetti potrebbe avere anche in questo senso dato che siete in un ambito di regolatorio insomma di adozione di un atto allora fate riferimento al regolamento qui vi ho messo l'esempio di una consultazione tipo che viene fatta sugli atti per esempio il dipartimento del tesoro fa tante consultazioni di questo tipo avviene una pagina del proprio sito spiega i contenuti del del provvedimento in un documento di consultazione raccoglie anche indicazioni su come partecipare di solito apre una mail e lì c'è un alert attenzione ad utilizzare la mail a seconda di potresti avere tantissimi o pochi comunque tanti contributi fatti in modo molto diversificato quindi per esempio allegati con tante pagine oppure potrebbero non darvi riferimenti congrui su chi sono i partecipanti quindi attenzione è la forma tipica del notice and comment diciamo ma può dare delle problematiche soprattutto se si dei grandi amministrazioni e poi quello che fa diciamo il dipartimento del tesoro in questo esempio di consultazioni che vi ho messo è quello di pubblicare lo schema ossia il schema di decreto così come il testo come verrebbe approvato ok però invece di approvarlo direttamente per un mese lo tiene online per sia trasparenza sia per accogliere osservazioni a quel punto quando arrivano le osservazioni o si modifica il testo oppure si spiega e qui si ha il feedback che sono arrivate otto osservazioni e comunque il testo resta uguale per una serie di ragioni questo è un approfondimento sul notice and comment cioè quando avete una situazione di questo tipo avete un provvedimento di semplificazione volete sottoporre la consultazione o lo fate così quindi attraverso una mail o lo fate in altri modi potete farlo attraverso un questionario e avrete sempre un'interlocuzione a uno a uno corrispondente quindi la proposta vi arriva a voi amministrazione senza che nessun altro la possa leggere potete fare degli incontri dal vivo in questo senso consultazioni mirate con soggetti che predeterminate oppure potete scegliere di fare consultazioni che incentivino il dialogo dai partecipanti ovvio che più andate in là con la decisione quindi più è definita più vi sarà difficile cambiarla evidentemente quindi in questo caso anticipate il più possibile la consultazione non quando avete il testo definitivo ma quando per esempio avete ancora margine di decisione in questo senso ci sono degli strumenti che incentivano il confronto dei partecipanti abbiamo visto prima per esempio quella consultazione sul covid per la semplificazione nel covid che c'era un forum che appunto consentiva alle persone di parlare tra di loro per esempio di questo tipo dove ogni stanza consente la discussione su un determinato argomento tra le persone vado avanti sulla sulla presentazione perché ormai è tardissimo e potete utilizzare la consultazione anche per capire come è andato un determinato provvedimento cioè come si sta attuando se avete dei servizi problematici potete fare una consultazione sui servizi può essere una nuova frontiera della consultazione soprattutto per gli enti locali e poi nel PNRR in fase di valutazione io ho messo poi la presentazione sarà nelle disponibilità vostre sul sito e nella definizione dei bandi dei progetti per il monitoraggio sull'attuazione dei progetti ci sono tantissime occasioni che possono essere utili per la consultazione per inserire la consultazione in decisione legate al PNRR e vi ho messo due esempi ora in corso del MIPAF e dei beni culturali proprio sui progetti e allora io diciamo mancano cinque minuti rispondo vi do questi questi alert un alert sulla privacy attenzione a seconda del tema la consultazione può essere un po' problematica nel tema della semplificazione mettete il caso della disabilità voi non dovete fare attenzione a raccogliere osservazioni in modo che si mantenga la privacy dei partecipanti soprattutto su aspetti delicati insomma su dati personali allora cerco di rispondere a questa domanda c'è un fil rouge che accompagna sempre o un'evoluzione notata nell'arco di questi anni nell'approccio dei destinatari il fil rouge è sempre se capisco bene la domanda sulla consultazione è sempre quella di raccogliere una descrizione delle problematiche che questi destinatari incontrano è stato fatto in Italia cioè lo facciamo sempre in Italia lo fanno anche all'estero descrivere la problematica questo è il fil rouge per essere concreti e capire nel concreto qual è il problema e bypassare eventuali deficit percettivi che hanno i cittadini per cui se date un elenco da spuntare e un cittadino dice che la procedura del super bonus è complicatissima ma poi scoprite che in realtà è stato il suo tecnico essere per esempio il tecnico a non essere a non aver seguito le indicazioni di semplificazione voi non potrete mai sapere mentre invece se date la possibilità di descrivere la problematica è più facile che le persone cioè per voi capire se il problema è di semplificazione amministrativa oppure di altro tipo sono state altra domanda sono state fatte le consultazioni sulle attività di controllo nelle imprese non che io sappia non così specifiche almeno non da parte dal dipartimento della funzione pubblica io un po' quello sguardo perché diciamo nei progetti collaboro soprattutto con il dipartimento della funzione pubblica che ha anche il pulso sui controlli amministrativi sulle imprese in Italia no nello specifico non è stata fatta una consultazione se intende dire una consultazione mirata sul tema ma il tema dei controlli è emerso moltissimo nelle consultazioni cioè molto nelle consultazioni che abbiamo effettuato più generali per la costruzione nell'agenda tanto è vero che poi nell'agenda una delle azioni era proprio sui controlli sulle imprese vi faccio altri due alert progettate in anticipo le attività di consultazione ossia definite quali sono i problemi informativi vostri c'è i gap informativi e capite chi consultare in modo che potete consultare persone giuste nel modo giusto e e poi rispettate i principi di trasparenza e cercate insomma di fare in modo che gli asili di consultazione diventino effettivamente decisioni così le persone vedranno che le proprie proposte sono diventate legge no io ho finito il tempo naturalmente se avete altre richieste potete scrivere non so lascio la parola grazie dottoressa allora sono le 11 e 30 quindi abbiamo concluso il tempo a disposizione ma ci prendiamo qualche altro istante per eventuali domande dell'ultimo minuto io nel frattempo ne approfitto per ricordarvi alcune indicazioni diciamo di carattere più tecnico operativo la registrazione del webinar sarà disponibile già a partire dal primo pomeriggio su Eventi Pia la presentazione della dottoressa Raiola invece è già online sulla pagina Eventi Pia vi ricordo anche il webinar del 9 febbraio l'evento sarà online a brevissimo nelle prossime ore comunque entro la settimana vi manderemo comunque un invito per se siete interessati potete iscrivervi anche a questo e ai prossimi webinar leggo qualche feedback in chat molto interessante grazie perfetto grazie a tutti allora dobbiamo firmare da qualche parte Francesca no se si riferisce alla presenza no abbiamo monitoriamo le presenze attraverso la piattaforma di videoconferenza che utilizziamo quindi le presenze verranno attestate in giornata e da quel momento potrete compilare il questionario di gradimento e scaricare l'attestato di iscrizione a questo evento va bene non mi sembra che ci siano altre domande per la relatrice io ringrazio tutti voi per la partecipazione soprattutto ringrazio la relatrice per la chiarezza con cui ci ha fatto questa ampia panoramica sulle consultazioni a questo punto direi che possiamo chiudere questa sessione e vi auguro buona giornata e vi auguro